Allora non ci siamo spiegati, non ci siamo proprio spiegati, la sovranità monetaria compete solo ai banchieri, gli altri non devono mai pensare a questo. Ma quali altri esempi volete? L'esempio dell'Argentina non vi è bastato, l'esempio del Burundi non vi è bastato, abbiamo ammazzato Paol Sankara, abbiamo ammazzato Gheddafi, abbiamo distrutto Hitler, abbiamo distrutto Mussolini, abbiamo distrutto Gheddafi. Ci siamo spiegati, non esiste la vostra sovranità, esiste solo la nostra sovranità. Ancora volete insistere con queste stupide cose? Noi battiamo moneta, lo volete capire? Teste di cazzo che non siete altri. Noi e noi soli possiamo battere moneta. Chi si oppone a questa legge viene ucciso. Lo capite o no? Teste di cazzo. Chi si oppone a questa legge unica e universale muore. Non vi è bastato Kennedy, non vi è bastato Abraham Lincoln. Chi si oppone a questa... Noi siamo gli unici che possiamo battere moneta. Ed entriamo dove ci pare, in qualsiasi stato. Con le buone o con le cattive. O corrompendo o comprando. E chi non si vuole fare corrompere, non si vuole comprare, gli mandiamo i caccia e lo distruggiamo, lo annentiamo, lo polverizziamo, facciamo la propaganda politica e lo massacriamo mediaticamente. Non ci sono altre regole, non lo avete capito? Teste di cazzo. L'unica regola è che noi emettiamo moneta.